ciao a tutti volevo mostrarvi le mie due ultime piantine che mi sono state regalate questa è un euforbia adesso vi scrivo anche il nome e questa è della famiglia delle calancoe i suoi tipici fiorellini e le sue foglie sono fatte così come potete notare il terriccio non è idoneo non è proprio adatto quindi prossimamente le rinvaseremo insieme buon san valentino a tutti ciao ciao